Voi siete agguerritissimi, è tutto coi puntini sulle i. Mi è piaciuto molto come avete trattato i ragazzi, perché non è solo una competizione fino a se stesse, si vede già solo dall'umore che c'era fra i partecipanti. Siete riusciti a creare un gruppo che si è spalleggiato, probabilmente nasceranno delle amicizie e delle collaborazioni fra questi ragazzi. Il fatto che con tutte le grandi opportunità che si hanno oggi nella musica, e quindi uno può scegliere di intraprendere una strada piuttosto che un'altra, sono sempre molto orgoglioso di chi sceglie la strada della competizione, perché è sana, perché la competizione stimola il talento, perché credo sia anche molto più facile e banale provare una strada safe, nella quale non ti vede nessuno, stai dietro il tuo profilo, dietro il tuo telefono, mentre invece prendere un microfono, cantare le proprie canzoni davanti a della gente, davanti a qualcuno che ti sta giudicando, tra virgolette, perché poi il nostro ruolo era più, chiaramente nel mio caso, ho espresso un parere personale legato alla vibe che mi dava il brano, ed è anche il modo, secondo me, giusto di giudicare la musica, perché la musica non è una gara, non è una competizione sportiva, voglio dire, ecco. Però nella musica credo che, in generale, ci siano così tanti fattori che non è così semplice poter determinare cosa è meglio di qualcos'altro, no? Spesso ci sono magari delle canzoni o degli artisti che a me non arrivano, a me non dicono nulla, ma che hanno salvato la vita di qualcun altro, allora quella cosa lì non si può dare per scontato, quindi questo evento racchiudeva, secondo me, un po' anche l'essenza del nostro genere, che è quella non solo di competere in maniera sana, ma quella anche di creare connessioni, innestare dei melting pot che possono solo favorire la musica stessa. Tra tutte le strade che hanno, scegliere quella di andare, tra virgolette, allo sbaraglio, pronto anche a essere giudicato male, magari, se vogliamo, no? Arriviamo anche da due anni di stop, dove magari molti di questi ragazzi artisticamente nascono negli ultimi anni, non hanno neanche avuto la possibilità di andare a sbagliare su un palco, ancora prima di andare a cantare una loro canzone famosa, quindi benvengano le belle iniziative come queste e voi spaccate.